Ben trovati amici di Padre Pio TV a questo nuovo appuntamento con Chiede a noi diritti e tutela. Abbiamo la possibilità anche questa settimana di incontrare il nostro amico Giuseppe Placentino, il presidente dell'Associazione Difesa Salute che nell'ambito di questa rubrica ci dà l'opportunità di soffermarci su temi importanti. Di rilievo soprattutto in questi anni sono stati quelli trattati dall'Associazione nell'ambito dell'indennità, questo tema che ha visto in prima fila l'Associazione stessa nel raggiungimento di importanti obiettivi che hanno fatto, è proprio il caso di dirlo, giurisprudenze. Allora anche questa settimana vogliamo sapere quali sono le novità nell'ambito del riconoscimento di indennità dall'Avvocato Giuseppe Placentino. Eccoci qui di nuovo con Difesa Salute a parlare in questa puntata di diritto sanitario ma in particolar modo di assistenza sociale, cioè di provvidenze economiche a favore degli invalidi, che sono un po' i cavalli di battaglia dell'Associazione Difesa Salute e dei successi nazionali di questa associazione. Ci è arrivata una documentazione relativa a un minore al quale la Commissione Medica Integrata ASL-IMPS competente non ha riconosciuto l'indennità di frequenza. Quindi il primo argomento riguarda l'indennità di frequenza. È stato riconosciuto non invalido questo minore di anni 18, sebbene nella diagnosi del verbale che ho qui di fronte a me ci sia scritto ritardo mentale di grado lieve. Non deve trarre in inganno il fatto che sia scritto di grado lieve perché l'indennità di frequenza per i suoi requisiti spetta ai minori di anni 18 non abbienti quando hanno delle difficoltà a svolgere i compiti della proprietà. L'indennità di frequenza che è nata nel 1990 con la legge 11 ottobre del 1990 numero 289 è una provvidenza economica a domanda, cioè bisogna richiederla. Ed è prevista per i minori non abbienti che possono essere o minori ipoacusici, cioè che hanno delle difficoltà ad ascoltare, oppure i minori che hanno difficoltà a svolgere i compiti della propria età. Nello specifico abbiamo verificato la documentazione che ci è pervenuta all'Associazione Difesa Salute. Questo minore necessita dell'insegnante di sostegno, quindi della integrazione scolastica. Quindi assolutamente bisognava proporre ricorso al giudice del lavoro competente e siamo fiduciosi. Il ricorso è stato già presentato presso il giudice del lavoro, poi vi terremo aggiornati su questa vicenda giudiziaria. Ritornando all'indennità di frequenza, a questa provvidenza economica che è stata introdotta nel 1990, essa prevede un contributo mensile di 289 euro circa, per 12 mensilità. Quali sono le particolarità che possiamo dire in questo momento qui di fronte ai telespettatori? In primo luogo che la giurisprudenza, cioè i giudici, hanno riconosciuto l'indennità di frequenza ai minori di anni 18 che sono trattati con la chemioterapia, anche in dei hospital. Quindi ci tengo a precisare che può spettare anche ai minori che vengono sottoposti in dei hospital a trattamento chemioterapico. La seconda particolarità è che non spetta l'indennità di frequenza a chi frequenta saltuariamente, quindi con nessuna regolarità, un trattamento riabilitativo. Quindi un trattamento potrebbe anche essere scolastico, riabilitativo. Occorre, secondo la Corte di Cassazione, che ci sia una continuità nel tempo. La terza particolarità è molto importante, appunto, è che spetta anche ai minori che frequentino gli asili nido. In un primo momento c'è stata una, diciamo, una contrapposizione tra due orientamenti. C'era chi diceva che non spettasse ai minori che frequentano l'asilo nido, invece no. Anche i minori che frequentano l'asilo nido, quindi molto piccoli, sotto i tre anni, può spettare l'indennità di frequenza se, ripeto, ci sono difficoltà a svolgere i compiti della proprietà. Perché abbiamo detto che l'indennità di frequenza spetta ai minori non abbienti? Perché c'è un limite di reddito personale. In altre parole, se il minore ha una fonte di reddito, un capitale, che è superiore ai 4.900 euro circa all'anno, questa è la quota del 2019, non li spetterà questa provvidenza economica. Comunque restiamo a disposizione per gli altri telespettatori che si rivolgono a Difesa Salute per dargli un consiglio in materia di indennità di frequenza. Dopo esserci occupati di questo quesito sull'indennità di frequenza, adesso ci occuperemo di un altro quesito relativo all'indennità di accompagnamento. Abbiamo ricevuto una email dalla provincia di Roma in cui questo signore ci dice, le scrivo da Valmontone, in provincia di Roma, perché ho un quesito da porle. Mia madre è stata in cura per circa 15 mesi presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma per un carcinoma anale a cellule squamose. Dopo i trattamenti di rito, che hanno compreso chemioterapia associata a radioterapia e successivamente brachiterapia, ad oggi è portatrice di colostomia permanente e prima della visita di revisione della AS di competenza stavo cercando di reperire informazioni riguardo il possibile rinnovo dell'assegno di accompagnamento, che ad oggi ancora percepisce. Leggo ovunque che l'assegno sarà revocato, ad eccezione di un articolo trovato su Difesa Salute, in cui viene scritto che lei è riuscita a far riconoscere l'indennità di accompagnamento ad un cittadino pakistano. Mi rivolgo a lei perché trovo ingiusto che una persona, dopo aver subito un tale cambiamento di vita, debba vedersi sottrarre un utile apporto economico che le permette di trovare un minimo di tranquillità. Sarebbe possibile per lei aiutarmi? Se sì, in che modo? La ringrazio molto per il tempo che mi dedicherà. Ci siamo sentiti con il figlio di questa signora. Abbiamo confermato che Difesa Salute ha avuto la soddisfazione in Italia di vincere una causa per una colostomia ad un cittadino pakistano. È nota questa sentenza che per la prima volta in Italia ha visto il riconoscimento di questa indennità proprio a un soggetto che aveva solo la colostomia. Quindi è importante sottolineare questo aspetto. Cioè il CTU del Tribunale, il medico del Tribunale ha riconosciuto che la colostomia, cioè il fatto di avere questo problema alla continenza, sia di per sé sufficiente all'indennità di accompagnamento. Quindi è il riconoscimento di questa provvidenza economica. Abbiamo mandato la documentazione e abbiamo detto a questo signore che siamo disponibili anche presso Roma per impugnare il verbale di invalidità qualora questo verbale di invalidità non riconosca a questa signora di Valmontone il diritto all'indennità di accompagnamento. Abbiamo non solo dato la disponibilità giuridica, ma ripetiamo la nostra disponibilità a mandare la documentazione prescinde dall'intervento di Difesa Salute. Diversi avvocati si rivolgono all'associazione e hanno questi documenti nell'ambito ovviamente delle funzioni sociali della nostra associazione che non è gelosa di mandare questi documenti in giro per l'Italia, quando si tratta di informazioni di diritto sanitario e sono un diritto dei cittadini. Noi quindi abbiamo questa particolarità, non abbiamo problemi a far circolare la documentazione giuridica, quindi le sentenze, i decreti di omologa, magari depurate da diciamo le generalità delle persone, proprio per consentire a chi ci ascolta di avere un privilegio. Ora l'indennità di accompagnamento e quindi parliamo di questo secondo argomento che è molto interessante, è una provvidenza economica che è stata introdotta negli anni 80 ed è riconosciuta per due requisiti alternativi o l'impossibilità di ambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di una persona, quindi questi due requisiti sono alternativi o uno o l'altro oppure tutte e due. Per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento un'altra particolarità che io ci tengo a esplicitare è che essa non è legata né al reddito né all'età. Per quanto riguarda l'età l'indennità di accompagnamento può essere percepita da un bambino di un anno fino a 99 anni, anche più di 100 anni, quindi non c'è un limite di età. Inoltre l'indennità di accompagnamento non ha un limite reddituale, quindi anche una persona molto ricca può chiedere questa indennità in presenza di questi requisiti. È una provvidenza economica a domanda, cioè bisogna presentare una domanda. La domanda va presentata tramite il medico di famiglia che inoltre ha un certificato online. Poi questo certificato online che ha la durata di 30 giorni attraverso un patronato deve essere comunicato all'Invese, quindi la domanda va fatta con il certificato medico che viene trasmesso prima da parte del medico di famiglia e poi c'è la fase successiva con la domanda vera e propria che viene trasmessa dal patronato oppure ogni soggetto se ha un pin di accesso al sito dell'Invese può mandare questo certificato. Ora, qual è l'importo dell'indennità di accompagnamento? L'importo è di 517 euro. Vorrei notare questo fatto. Nel 2018 l'importo era di 516,35 euro. L'aumento per il 2019 è stato di 1 euro circa, 1 euro e 50 centesimi ed è arrivato a 517,84. Io devo dire che l'importo spesso è insufficiente perché in Italia il costo per avere una persona ad esempio in una casa di cura è molto più alto. Quindi se una persona necessita di una casa di riposo per anziani posso ben dire che le 517,84 euro sono insufficienti. Se a queste 517,84 ci aggiungiamo la pensione di inabilità con il 100%, quindi arriviamo all'incirca sulle 800 euro e io sfido qualsiasi famiglia a trovare una casa di riposo che con 800 euro garantisca un'assistenza H24. Quindi purtroppo questo è uno dei problemi dell'assistenza sociale in Italia, che le provvidenze economiche non riescono a garantire per certi soggetti che non possono stare in casa ma necessitano appunto di recarsi presso una casa di cura un esborso così alto. Carissimi amici di Patria Pio di Buba, tornate all'appuntamento settimanale dedicato al fisco e all'economia e anche alla previdenza. Questa settimana continuiamo a parlare di lavoratori domestici, quindi di colf e di badanti e lo facciamo perché qualche giorno fa c'è stata una circolare, è stata emanata una circolare dell'Inps molto importante e molto attesa, esattamente il giorno 6 di febbraio, la circolare numero 17. Molto importante perché è una circolare che annualmente fissa, determina le fasce di retribuzione ma anche di contribuzione, quindi per tutti quei datori di lavoro che hanno le proprie dipendenze, sia colf che badanti, per quanto riguarda il 2020 dovranno fare riferimento a questa circolare Inps numero 17 del 6 febbraio 2020 perché appunto ha determinato la fascia di contribuzione e di retribuzione, per cui tutti i contributi che dovranno essere versati per il lavoro svolto nel 2020 si dovrà fare necessariamente riferimento a questa circolare. Ne approfitto per fare anche una panoramica molto importante per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale, cioè cosa compete, cosa aspetta a questi lavoratori, sia nei diritti ma anche nei doveri per quanto riguarda questa tipologia di lavoratori. Per quanto riguarda in linea generale sapete che il rapporto di lavoro domestico, ne abbiamo già parlato nelle precedenti puntate, fa riferimento ad una legge molto vecchia, addirittura del 1958, la legge 339, la quale fissava che il lavoratore domestico è colui che svolge in maniera continuativa un servizio nell'ambito di un lavoro domestico, quindi dalle dipendenze di un nucleo familiare. Per quanto riguarda la scissione di queste due grandi categorie all'interno del contratto collettivo nazionale per quanto riguarda il lavoro domestico, si fa riferimento alle COF e alle badanti. Con il termine COF si intende quel tipo di lavoratore o lavoratrice che svolge un'attività normalmente al servizio del datore di lavoro domestico per quanto riguarda l'accudimento della casa, quindi le pulizie e la cucina. Per quanto riguarda invece, lo capite benissimo, lo dice la stessa parola la badante, quando all'interno del gruppo familiare magari c'è una persona, che potrebbe essere italiana, potrebbe essere straniera, che si occupa di una persona anziana oppure potrebbe essere di un bambino. Quindi c'è differenza notevole per quanto riguarda le golfe e i badanti, non c'è differenza per quanto riguarda invece la contribuzione, perché la contribuzione si fa riferimento soltanto alla retribuzione e al monte ore che viene svolto dal lavoratore nel trimestre di riferimento, perché i contributi per quanto riguarda il settore domestico vanno versati trimestralmente. Ma andiamo con ordine, per quanto riguarda l'assunzione, come per tutti gli altri lavoratori, quindi per tutte le altre categorie, e quindi parliamo di artigiani, commercianti e quindi anche per quanto riguarda il lavoratore domestico, l'assunzione deve essere fatta entro il giorno precedente relativo all'assunzione, quindi il giorno prima che ci sia l'avvio al lavoro, allora deve essere comunicato all'Imbes, quindi l'assunzione. C'è una fase di registrazione, c'è una posita sezione nel sito istituzione dell'Imbes, bisogna registrarsi e poi indicare i dati del lavoro del lavoratore, bisogna indicare l'ammontare delle ore settimanali per cui si intende fare lavorare questo lavoratore o lavoratrice, sia se si tratta di colfe, sia se si tratta di badante, ovviamente bisogna indicare la retribuzione e poi bisogna indicare anche il luogo di lavoro. Attenzione, questo non è una cosa da sottovalutare perché, per esempio, nel caso in cui la famiglia presso cui lavora la colfe o la badante, nel periodo estivo magari o nel periodo invernale, quindi la famiglia si sposta in un luogo di villeggiatura, allora bisogna indicare nel contratto, quindi nel contratto di assunzione che viene fatto all'Imbes, i mesi in cui è ovviamente anche la sede in cui si sposta il lavoratore per svolgere le sue mansioni anche se per un periodo limitato nel tempo. Quindi questo è il contratto di assunzione che ricordiamo va fatto il giorno antecedente, l'inizio del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda i contributi che abbiamo parlato in apertura, abbiamo detto che bisogna versare i contributi trimestralmente, per il 2020 bisogna fare riferimento a questa famosa circolare numero 17 di qualche giorno fa, del 6 febbraio, e i contributi appunto devono essere versati a trimestre scaduto, quindi per quanto riguarda il primo trimestre dell'anno per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, i contributi devono essere versati entro il 10 di aprile. Per il secondo trimestre dell'anno, quindi quando il lavoratore o la lavoratrice svolge l'attività nei mesi di aprile, maggio e giugno, i contributi vanno versati entro il 10 di luglio. Per il terzo trimestre dell'anno, quindi riferendoci ai mesi di luglio, agosto e settembre, i contributi vanno versati entro il 10 di ottobre. Per l'ultimo invece trimestre dell'anno, quindi per i periodi di ottobre, novembre e dicembre, i contributi devono essere versati entro il 10 di gennaio dell'anno successivo. In pratica i contributi devono essere versati il 10 del mese successivo a trimestre di riferimento in cui ha lavorato, ha prestato l'attività lavorativa la colf o la badante. Come abbiamo già accennato, i lavoratori dipendenti nel settore domestico hanno quasi gli stessi diritti per quanto riguarda tutti gli altri lavoratori, quindi parliamo dei lavoratori nell'ambito commerciale, nell'ambito professionale, nell'ambito anche industriale. Perché per esempio hanno diritto ai permessi? Ecco, questo mi è stato chiesto da alcuni telespettatori, quindi torno su questo argomento e magari lo approfondiamo. Perché per quanto riguarda per esempio il periodo di formazione professionale, quando un lavoratore intende svolgere un corso magari per approfondire, per formarsi, allora anche i lavoratori domestici hanno diritto a 40 ore l'anno per conseguire, per frequentare un corso di formazione professionale. Ovviamente il lavoratore deve maturare, deve aver maturato prima un anno di anzianità di servizio. Stesso discorso vale per quanto riguarda le visite mediche, nel caso in cui un lavoratore deve assentarsi dal lavoro, quindi non per malattia, ma soltanto perché deve recarsi presso uno specialista per effettuare una visita appunto specialistica, allora ha diritto anche a delle giornate durante l'anno. Per quanto riguarda, però bisogna fare una distinzione, per quanto riguarda i lavoratori conviventi, quindi normalmente parliamo di badanti, allora i permessi per quanto riguarda le visite specialistiche ammontano a 16 ore l'anno, quindi un ammontare complessivo di 16 ore. Invece quando si tratta di colfe, quindi parliamo normalmente di personale non convivente all'interno del luogo familiare, queste ore complessive da poter dedicare alle visite specialistiche sono per un massimo di 12 ore. Facciamo attenzione perché parliamo di permessi retribuiti, però anche in questo caso il lavoratore o la lavoratrice deve avere maturato almeno un anno di anzianità di servizio. Per quanto riguarda invece il matrimonio, quindi sapete che ovviamente per tutti i contratti collettivi per indipendenti esiste un periodo di congetto in occasione del matrimonio del lavoratore o della lavoratrice, anche i lavoratori domestici hanno diritto a 15 giorni di calendario di assenza retribuita per quanto riguarda il matrimonio. Questi 15 giorni di calendario possono anche essere goduti nell'arco del primo anno di matrimonio, quindi non soltanto subito successivamente al matrimonio, ma il lavoratore o la lavoratrice ha la possibilità di godere di queste ferie, di questi permessi retribuiti nel primo anno di età del matrimonio. Per quanto riguarda invece le ferie, quindi come per tutti gli altri contratti collettivi, anche i lavoratori nell'ambito del rapporto di lavoro domestico hanno diritto a delle ferie. Ferie che ammontano a 26 giorni l'anno, quindi questi maturano in dodicesimi, quindi distribuiti nell'arco dei 12 mesi. Ovviamente questi devono essere necessariamente goduti, il contratto collettivo tra l'altro stabilisce che normalmente due settimane devono essere godute nel periodo che va da giugno fino a settembre e gli altri possono essere scelti dal lavoratore, quindi richiesti ovviamente in anticipo. Volevo anche qui porre una parentesi perché il periodo delle ferie va sempre concordato tra il datore di lavoro e il dipendente. Naturalmente bisogna fare una richiesta, io consiglio sempre di farla per espritto e quindi va sempre concordato il periodo in cui la lavoratrice o il lavoratore intende godere delle ferie. Per quanto riguarda, infine in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere se si tratta di dimissione oppure di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo da parte del datore di lavoro, quindi a prescindere del motivo del licenziamento, il lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro ha diritto sempre al TFR, al trattamento di fine rapporto o liquidazione. Questa indemnità che appunto viene corrisposta alla fine del rapporto di lavoro, deve essere retribuita e ammonta a circa una mensilità per ogni anno. C'è un calcolo particolare da fare, in pratica bisogna sommare le retribuzioni annue, dividere per un coefficiente fisso che è 13,5 e così viene determinato l'ammontare del TFR o liquidazione che viene maturata per ogni anno di attività di servizio. Bene, per oggi è tutto, io vi do l'appuntamento della prossima settimana e invito i nostri amici a casa, i nostri telespettatori a scrivere alla nostra redazione e io sarò felice di rispondere alle vostre domande, ai vostri quesiti di natura fiscale e anche previdenziale. Grazie, alla prossima settimana.